Allora, io mi chiamo Mario De Filippi, sono un dottore commercialista, nonché un revisore contabile. Opero da circa 25 anni sull'Alessandrino, ad Alba e nel Braidese con un studio associato. Perché sono qua? Sono qui perché sicuramente è un gap professionale che dovevamo colmare ormai da tempo, in quanto la nostra professionalità è sempre stata indirizzata a una scelta aziendalistica e non finanziaria, per cui risultava necessario colmare questo vuoto che in questi anni nessuno, almeno per quanto mia conoscenza, era in condizione di formare i professionisti già con una certa esperienza. Valerio Malvezzi è una persona che conosco da tempo, nonché ho rapporti professionali con lui già da molti anni. Mi è sembrato assolutamente naturale per le sue competenze affidarmi per una crescita inevitabile, comunque non più rimandabile nel tempo. La scelta è stata secondo me validissima, ritengo che per quanto riguarda le nostre conoscenze aziendali, per quanto riguarda il giro dei nostri clienti, sarà una scelta ottima, con un rientro penso anche abbastanza breve, lo rifarei sicuramente.